Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato dal Muglino, dal titolo La manifattura del cuoio nel tardo medioevo. Oggetti, tecniche, incorporazioni e lavoro fra tredicesimo e quindicesimo secolo di Laura Righi, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite perché ci parli di questo interessante saggio alla quale io come mia abitudine lascio subito la parola. Prego, a lei. Grazie, grazie mille, grazie dell'invito a parlare un po' di questo libro che è appunto appena uscito con il mulino e che è la rielaborazione della mia ricerca di dottorato che ho svolto qualche anno fa. Questo libro intende fare un po' il punto su un settore dell'economia urbana tardo-medievale che si è rivelato essere molto importante ma che sinora è stato scarsamente studiato dagli storici medievisti. Rispetto ad esempio ad altri settori fondamentali dell'economia tardo-medievale, quali ad esempio i settori tessili. La manifattura del cuoio era un settore importante ed estremamente, quindi anche estremamente interessante da studiare perché, come sottolineo anche nell'introduzione del libro che si intitola Un mondo senza plastica, era un materiale che veniva ampiamente utilizzato per la produzione di numerosissimi oggetti perché era appunto un po' un sostituto anche delle delle materie plastiche inventate poi diffuse sì nel corso del novecento. Quali oggetti venivano prodotti in cuoio? Naturalmente il primo oggetto che ci viene in mente sono le calzature ma c'erano numerosissimi altri oggetti quali ad esempio l'equipaggiamento militare, quindi selle, scudi e foderi per le spade, più numerosi altri oggetti molto più piccoli e che sfuggono anche un po' alle fonti e alla ricerca storica, quali ad esempio borselli, cinture e contenitori per i liquidi o altri materiali. Naturalmente questa alta domanda di oggetti in cuoio comportava la necessità di avere numerosissimi lavoratori impegnati in questo settore. Le figure fondamentali erano quelli che venivano definiti calzolai con varie denominazioni e cuoiai e conciatori che si occupavano quindi di diverse fasi. I calzolai molto spesso si occupavano in realtà della produzione di diversi oggetti, non solo delle scarpe. Queste diverse figure professionali si afferivano a diverse corporazioni, molto spesso nelle città tardo-medievali, anche quelle non di grandissime dimensioni. Io ho studiato varie città, in particolar modo il caso di Bologna, per cui è disponibile un'ampia mole di documentazione d'archivio che ancora non era stata studiata, ma in ogni città appunto erano presenti diverse corporazioni che si suddividevano a seconda dell'area di lavorazione, ad esempio la collocazione geografica nel centro urbano, oppure a seconda della specializzazione tecnica. E quindi insomma era un settore piuttosto vivace per la presenza di diverse corporazioni che lavoravano sulla stessa materia prima e per questo però anche conflittuale, perché in molti casi si è potuto osservare una certa conflittualità, ad esempio nell'approvvigionamento delle materie prime e quindi delle pelli, che spesso venivano importate anche da fuori sempre, ma spesso anche da luoghi molto distanti, venivano importati all'interno del centro cittadino e anche per l'accesso, la conflittualità era dovuta anche per l'accesso alle risorse, quindi non solo le pelli e l'acquisto delle pelli, ma anche la disponibilità di corsi d'acqua. Infatti la lavorazione del cuoio, soprattutto la fase diciamo di concia delle pelli, quindi non tanto la produzione degli oggetti, richiedeva l'accesso e l'uso di acqua corrente e questo naturalmente non era facile, visto che queste produzioni si svolgevano all'interno dei centri cittadini, quindi non più come succede poi in epoca moderna e poi contemporanea, quando la concia delle pelli è un'attività che viene spostata all'esterno del centro urbano, nel corso del tardo medioevole un'attività che veniva svolta ancora all'interno delle mura cittadine e quindi la città aveva bisogno di strutturare tramite chiaramente leggi specifiche e di organizzare questa produzione che non solo aveva bisogno di acqua quindi, ma aveva anche un forte impatto in termini di inquinamento, di inquinamento delle acque e di rilascio di sostanze e di materiali inquinanti in questi corsi d'acqua. Quindi cosa accadeva? Solitamente vi erano delle legislazioni specifiche che distribuivano lungo i corsi d'acqua, prima nominavo il caso di Bologna, ad esempio Bologna essendoci a disponibilità di più canali venivano riservati solo alcuni punti di determinati corsi d'acqua a questo tipo di lavorazione e chiaramente i lavoratori e le corporazioni cercavano di assicurarsi la migliore area per il diritto ad accedere appunto a queste infrastrutture. E quindi non solo da un punto di vista appunto di vivacità corporativa, ma si è potuto notare anche una certa vivacità del rapporto con le città proprio di queste corporazioni, di questi lavoratori che avevano un continuo scambio in termini di appunto richieste per poter accedere a determinate zone o determinate risorse e leggi dall'altra parte che venivano emanate per cercare di regolare questa attività. E questa attività che come dicevo prima era prettamente urbana e che le città cercavano di, i governi cittadini, i tardo medievali cercavano di controllare, di amministrare perché era importante mantenere all'interno della città ed era importante mantenere insomma vive. E come anticipavo una delle principali esigenze oltre appunto a quella dell'accesso alle risorse idriche era l'accesso alle pelli per i lavoratori del cuoio. Le pelli che potevano essere di vario tipo, quindi bovine, ovine, a seconda anche degli oggetti che si volevano produrre e questa necessità appunto per produrre, per rispondere all'alta domanda di oggetti in cuoio e porta anche alla creazione di commerci, di reti commerciali ampie e di richieste di approvvigionamento da parte, insomma, verso le città un pochino più grandi e popolose e quindi si creano insomma delle reti commerciali piuttosto ampie che appunto i lavoratori del cuoio cercano di gestire e anche per insomma migliorare i propri investimenti. E all'interno del libro insomma ho cercato di analizzare non solo appunto questo aspetto di rapporto ed impatto della lavorazione del cuoio sulla società urbana, quindi il rapporto con i governi cittadini e anche l'impatto sull'urbanistica della città ma anche diciamo i meccanismi interni al settore quindi andare a indagare quali investimenti il singolo operatore, ad esempio conciatore o cuoiaio quali investimenti faceva, quali erano le possibilità, i margini di profitto, quali tecniche utilizzava e anche come queste tecniche poi osservando diversi casi sono cambiate nel corso del tempo con anche l'introduzione di alcune piccole innovazioni tecniche per ridurre le tempistiche di lavorazione del cuoio ad esempio di concia delle pelli o per migliorare la qualità o l'aspetto, la tintura del cuoio ad esempio per la produzione di determinati oggetti. Quindi insomma ho cercato di osservare sia i meccanismi interni al settore e quelli piccoli sui singoli casi, sui singoli artigiani e in che modo insomma riescono a costruire le proprie imprese o in che modo si distribuisce anche, si collocano questi lavoratori economicamente e socialmente all'interno della società medievale e l'aspetto invece del rapporto del settore con la società e la politica delle città tardo-medievali. Ho approfondito diversi casi di studio come anticipavo uno dei principali è stato il caso di Bologna perché appunto ha un archivio molto ricco sia dal punto di vista delle corporazioni perché a Bologna hanno operato nel corso del 200, del 300 e una decina di diverse corporazioni che si sono alternate nel controllo di questo settore che operavano però contemporaneamente sia perché l'archivio di Stato di Bologna consente di avere molta documentazione rispetto ad esempio al governo cittadino soprattutto nelle fasi di governo di popolo e anche documentazione ad esempio di tipo fiscale per poter osservare la posizione economica e sociale di questi lavoratori che effettivamente poi animavano queste corporazioni che spesso tendono a sfuggire soprattutto le figure dei calzolai che spesso vengono percepite ed erano artigiani con una posizione economica non elevata e quindi anche vengono percepiti come artigiani con una scarsa posizione sociale per vedere effettivamente in che modo poi si inseriscono all'interno del tessuto cittadino e operano e quali differenze ci sono all'interno ad esempio della stessa corporazione consente effettivamente di cogliere i meccanismi propri di questo settore manifatturiero che appunto come dicevo è stato scarsamente indagato e che spero continuerà ad essere studiato perché i casi interessanti sono gli aspetti da approfondire sono ancora molti anche dal punto di vista ad esempio dell'evoluzione tecnica della concia del cuoio o anche sulle tipologie di calzatura di oggetti che venivano prodotti in cuoio e andrebbe approfondito e ampliato soprattutto il numero di casi studiati per capire effettivamente anche sul lungo periodo quali modifiche sono intervenute perché molto spesso uno dei problemi anche dello studio di questo settore è che gli oggetti in cuoio raramente si sono conservati solo alcuni oggetti eccezionali di alcune collezioni museali ad esempio si sono conservate ma da un punto di vista archeologico anche la conservazione di questi manufatti non è frequente quindi insomma anche per noi storici non è facile riuscire a immaginare anche effettivamente come questi oggetti che forma avevano che aspetto esteriore avevano e quindi insomma anche da un punto di vista tecnico nel libro mi soffermo soprattutto sulle tecniche conciarie quindi sulle ricette che appunto illustravano quali sostanze mettere all'interno delle vasche conciarie per trasformare la pelle in cuoio quindi per la fase insomma la prima fase di lavorazione della materia prima per ottenere appunto il cuoio per poi produrre gli oggetti quindi insomma mi soffermo più sulla parte di lavorazione conciarie per vedere cosa cambia in queste ricette nel corso del terdo medioevo e vedere se ci sono state modifiche da questo punto di vista più che sulla parte di confezionamento degli oggetti perché sono anche in termini di mercato le parti che sono più difficili le parti delle manifatture che sono più difficili da accogliere anche il commercio al minuto è molto più difficile trovare testimonianze su questo mentre sul commercio all'ingrosso quindi l'acquisto di grandi quantità di pellami è possibile trovare molte più informazioni soprattutto quando si tratta di grandi quantità importate dall'esterno della città quindi da altre regioni e quindi insomma che richiedono una registrazione anche proprio nelle fonti di questo tipo di acquisti come dicevo all'inizio quello che emerge da questo studio della manifattura del cuoio è la vivacità di questo composito in realtà panorama di lavoratori che avevano specializzazioni molto diverse e che erano estremamente numerosi all'interno di ogni centro urbano ripropongo il caso di Bologna perché da questo punto di vista è emblematico perché ho potuto constatare che alla fine del 200 negli anni 90 del 200 alle corporazioni del cuoio alle corporazioni che operavano nell'ampia manifattura del cuoio quindi calzolai di vario tipo conciatori e cuoiai erano iscritte più di 2000 persone quindi chiaramente alle corporazioni spesso erano iscritti un alto numero di persone che in qualche modo interagivano con la corporazione quindi magari non necessariamente erano lavoratori del cuoio però attraverso anche altro tipo di fonte ho potuto verificare che erano centinaia gli artigiani che negli anni 90 e del 200 erano effettivamente attivamente impegnati in questo settore oltre ovviamente anche altri che investivano ad esempio nel settore senza essere artigiani che lavoravano manualmente il cuoio o le pelli e quindi anche in termini di investimento e di circolazione di denaro e di impegno di coinvolgimento diciamo della società urbana medievale attorno a questo settore era rilevante è un argomento molto interessante anche perché si colloca in un periodo di trasformazione urbana importante e quindi deve tener conto anche di questi fattori ma parliamo di centinaia di più di duemila ha detto a Bologna quindi parliamo di numeri importanti sul piano politico avevano un peso contavano o erano considerati come dire un prodotto non degno d'attenzione da parte delle autorità cittadine in realtà grazie della domanda perché in realtà per molto tempo abbiamo dato per scontato che questo settore non avesse un un impatto politico i lavoratori le corporazioni di questo settore non avesse un impatto politico non fossero tenute in considerazione dai governi cittadini soprattutto quando si trattava di governi di popolo invece trattandosi di corporazioni che avevano un alto numero di iscritti avevano avevano un certo un certo peso quindi erano tenute in conto chiaramente era un prestigio della corporazione che era diverso rispetto a quello che poteva essere riconosciuto alle corporazioni di notai alle corporazioni di cambiatori o di setaioli anche solo perché era un peso politico più che un prestigio sociale di queste corporazioni ma ho potuto notare che il governo cittadino interveniva spesso ad esempio a dirimere delle controversie tra le diverse corporazioni attive oppure interveniva spesso per sistemare le infrastrutture che servivano queste corporazioni perché queste corporazioni avevano un forte un forte peso un forte peso politico proprio per i loro numeri quindi nel stato appunto dei governi di popolo molto spesso avevano in realtà un alto numero di consiglieri presenti che sedevano al consiglio di popolo e in altri casi come appunto nel caso di Bologna i governi cittadini tenevano diciamo tenevano in conto le corporazioni del cuoio perché in più di un'occasione queste corporazioni erano state promotrici di tumulti un po' perché appunto erano corporazioni molto conflittuali per le necessità appunto che avevano di approvvigionamento delle materie prime e di conflitti su questo tra una corporazione e l'altra e un po' perché erano molto numerose quindi avevano anche la forza per effettivamente realizzarlo un tumulto e quindi insomma in più di un'occasione tra questo volendo c'è anche l'aspetto della possibilità per i calzolai e per i lavoratori del cuoio di possedere anche armi insomma strumenti da taglio che potevano essere utilizzate come armi anche in momenti in cui c'erano delle limitazioni sul possesso delle armi e quindi erano corporazioni che avevano una loro forza e per le autorità cittadine era importante per una questione anche di mantenimento dell'ordine sociale e politico e avere un buon un buon rapporto con queste corporazioni che quindi anche quando avanzavano delle richieste ad esempio sulle sulle infrastrutture idriche o sulla concessione di spazi per il mercato erano venivano insomma solitamente venivano venivano soddisfatte e anche per anche per questa ragione e non solo perché era un'attività comunque importante e ad esempio anche per le entrate le entrate fiscali del 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 comune quindi sì diciamo che spesso sono state le corporazioni del cuoio sono state considerate come di scarsa importanza da un punto di vista politico e sociale perché appunto non godevano di quel prestigio e magari i rappresentanti di queste corporazioni non erano personaggi di famiglie illustri e molto spesso i calzolai ad esempio erano persone recentemente immigrate in città quindi non socialmente inserite all'interno del del ceto del ceto dirigente del cittadino ma in realtà avevano un loro ruolo per il peso che che avevano da un punto di vista numerico e di anche di economico per la vita cittadina e da questo punto di vista un altro aspetto che ho potuto osservare ma che andrebbe approfondito un altro aspetto molto importante è il fatto che alcuni di questi artigiani producessero gli equipaggiamenti per gli eserciti e quindi anche per gli eserciti comunali e quindi una buona collaborazione e anche garantire la possibilità di approvvigionamento delle risorse e di accesso alle infrastrutture per questi lavoratori era fondamentale anche per il comune stesso che nei momenti in cui si trovava in conflitto aveva bisogno poi di avere da questi artigiani gli oggetti per equipaggiare il proprio esercito e anche su questo insomma sono venute fuori alcune anche regolamentazioni specifiche ad esempio di autorizzazione a lavorare a coloro che producevano le selle potevano lavorare anche ad esempio nei giorni festivi nel momento in cui il comune aveva necessità che loro producessero le selle per partire appunto o in momenti insomma di conflitto più prolungato e quindi insomma anche questo diciamo che porta le corporazioni del cuore ad avere uno stretto legame con le autorità cittadine perché come anche altri settori come ad esempio quello alimentare insomma erano settori strategici per il mantenimento della città e anche dello stesso potere politico bene adesso non svegliamo tutto perché devono andare a comprarsi il libro se no quindi come si dice in gergo non spoileriamolo troppo ma ricordiamo il titolo e il titolo è la manifattura del cuoio nel tardo medioevo oggetti tecniche corporazioni e lavoro fra tredicesimo e quindicesimo secolo appena pubblicato dal mulino ovviamente scritto da Laura Righi che abbiamo avuto il grande piacere di avere nostra gradita ospite e che ringrazio davvero di cuore per questa bella videopresentazione grazie grazie grazie